Il nuovo modo che è richiesto da John Paul II per la fiducia di Gesù. È la considerazione di Gesù come il più grande filosofo e sciantico. Nel due contesti della filosofia o sciantica, ma cercando la verità, Gesù non è ancora stato investigato. Ma nella filosofia è affinato da Gesù la coesistenza tra i due di Parmenides e i due di Veraclito, il comitato. E dopo, tra quello che esiste in potenza e quello che esiste in azione, fatto da due oppositi, come la causa fondamentale e l'effetto fondamentale che Gesù ha nomeato il Padre e il Spirito. C'erano due filosofi che, dicendo la sua unità, dice che l'opposto dice che l'un era prima di N. e l'un era prima di N. E l'altro affermi il contrario, che il ratio N dividendo N è prima di N. Gesù dice che essenzialmente nella verità della scienza l'unità e la trinità di Dio sono più importanti e è completamente provato nella equazione che è 10 elevato a 0 è uguale a 10 elevato a 1 multipliato a 10 elevato a 1 Questi tre poteri hanno la stessa base di 10 è la trinità del Dio della giustizia che è valuta 3 in suo potere ma come un paio di tre come il padre e il figlio che si 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 at stake il sistema decimale per evitare ogni unità di attraverso il cento del suo ciclo assoluto 10. E si attiva nella linea che Gesù ha designato. E anche quando Einstein considera un massimo in tutta la sua espansione. Da che si attrava la 10 quantità, anche la relatività di Einstein esiste nella stessa linea, confermando la città di Gesù. Ora, quando la humanità si attraverso il suo compagno e il compagno, con la rivoluzione della Copernica o con la contribuzione dell'Italiano Galileo Galilei, era finalmente capito quello che Gesù ha raccontato a Nicodemus. Che il povero spirito, nella sua esistenza e nella sua direzione, è tutta la base del mondo materiale della massa della materia. Questo è definito in 1 kg, come un decimetrale cubo esattamente dell'acqua che Gesù ha indicato. in questo nuovo modo, in questo nuovo passaggio, in questo nuovo passaggio, oggi non è ancora iniziato. E la prova è che il stesso Papa John Power II, che ha chiesto questo nuovo passaggio, che ha chiesto questo nuovo passaggio, in questo nuovo passaggio, che ha chiesto di farciare la forcività di Galileo Galilei, e non per Gesù. in realtà, oggi, nessuno realizza che il Sun, che è percezionato in rotazione per la Terra, da direttamente conseguenza della rotazione degli osservatori del pianeta, potrebbero avere qualcosa sulle parole che Gesù ha detto a Nicodemio. in realtà, il Galileo Galileo Galilei aveva usato quella stessa 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 che dicevano dal primo Galileo Gesù. in abbiamo adesso. in questo modo in questo modo. in questo modo in questo modo. ho bisogno di essere la nostra chiesa. Grazie a tutti.